In collaborazione con Amici sportivi buonasera, ben ritrovati, 32 minuti dopo le ore 20 in diretta su TV Oggi Salerno, zona Missa News, buone notizie sul fronte infermeria, rientrano gli acciacchi, i pericoli, le preoccupazioni per quanto riguarda Ceccarelli e Colombo, quindi la corsia di destra, anche e soprattutto per Mose Soger che stamattina non si è allenato però sembra soltanto a scopo precauzionale, il centrocampista ganese, autentica rivelazione di questa stagione per la salernitana, Salernitana rientra tra i convocati, Menichini ha avuto la possibilità addirittura di convocarli con un giorno d'anticipo, ne ha convocati 21, si rivedono tra i precettati anche Rossi e Tuia, non ci saranno invece, credo per scelta tecnica, Pollace e Trevisan, salernitana che domani effettuerà la seduta di rifinitura direttamente in Sicilia, direttamente al provinciale di Trapani dove dopo domani sarà impegnata contro la formazione di Cersei Cosmi a caccia di il primo acuto del primo successo in trasferta che servirebbe come il pane, parleremo di questo, parleremo della telenovela Gabionetta, virtualmente chiuso l'accordo, il trasferimento del brasiliano a Langzu Green Town, massima serie cinese, ma per questioni burocratiche ancora non ufficializzato, chi meglio del team manager della salernitana, Salvatore Avalore, potevamo avere ospite in studio, buonasera Salvatore, sei di casa qui, anche se per ragioni di opportunità è un po' di tempo che manchi, ben ritrovato, allora partiamo dalla fine, Gabionetta virtualmente chiuso, io ho avuto modo di ribadire primo vero colpo di monetizzazione, di plus valenza da parte della salernità del quinquennio diciamo all'Otito Mezzaroma Sì insomma manca ancora qualcosina a livello di transfert è una cosa virtualmente fatta, detto bene a livello di monetizzazione è un grosso colpo per la società, anche perché questo è un giocatore che due anni fa nessuno è dall'estero, non ci credevano più in tanti è venuto l'anno scorso, ha alternato buone prestazioni a prestazioni meno positive, però poi alla fine insomma siamo riusciti a vincere il campionato anche con il suo contributo Quest'anno dopo il falimento del Parma comunque era rimasto svincolato, nessuno sembrava bene Ecco io credo che questo sia il vero colpo, perché l'anno scorso tra alti e bassi però era in prestito dal Parma, quest'anno svincolato comunque aveva delle pretese per il valore del giocatore importante Fabiani, la Salernitana ci ha creduto e se arrivano 600 mila euro insomma un bel tesoretto Sicuramente insomma, diciamo che poi è partito benissimo dando la sensazione di poter appunto trascinarci verso situazioni importanti poi come tutta la squadra anche lui è entrato in un tunnel dove non è riuscito poi a dare più quell'apporto che aveva dato nelle prime giornate dove sicuramente aveva fatto la differenza facendo molti gol e dando molti punti anche alla squadra dopo sicuramente è successo quello che tutti quanti sappiamo c'è stata questa opportunità per lui di andare in Cina sicuramente anche da un punto di vista economico abbastanza importante la società da questo punto di vista ha un'entrata importante e quindi penso che alla fine è stato un affare per tutti e due E quando si tratta di affare per tutti e due è sempre un buon affare ovviamente è possibile interagire con noi al sito internet tvogisalerno.it al link Zona Missa News la presenza di Salvatore Avallone ovviamente già scatenato sarà un fuoco incrociato per te, uno contro tutti Salvatore ma ci sei abituato Non è la prima volta Non è la prima volta Partiamo dalla vicenda gabionetta Nico ci scrive Pera Avallone ci racconti le ultime ore di gabionetta a Salerno al Volpe in che stato era? Due, verrà rimpiazzato da Nalini Possiamo avere aggiornamenti su questo ragazzo dato che a Lanciano Torrente disse addirittura che era in lista Io vi dico che gabionetta anche stamattina sebbene in borghese come ieri è stato al Volpe credo insomma formalmente per salutare però dici tu insomma svellaci No 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 è stato in questi due o tre giorni è stato sempre presente al Volpe stamattina ha salutato anche i compagni appunto qualora dovesse poi essere tutto ufficiale credo che potrebbe anche partire sabato per andare poi in Cina No mi sembrava un po' un ragazzo anche da un punto di vista così Dall'espressione contento da una parte Da una parte ma anche un pochettino triste perché probabilmente anche lui quando è arrivato qui e io posso testimoniarlo perché l'ho anche aiutato a trovare casa all'inizio lui diciamo che era molto molto preso Era mentalizzato? Sì mentalizzato voleva comprare addirittura casa era preso dalla nuova avventura Granata sicuramente poi le cose non sono andate come desideravamo noi e come desiderava anche lui Domanda delle 100 pistole Salvatore perché? Cos'è che non è andata? Tante credo cose Se dovessi provare a sintetizzarle Ma quest'anno devo dire che all'inizio faceva presagire qualcosa di importante perché ha fatto dei numeri veramente No ma non mi riferivo sulla gabionetta dicevo in generale le cose non sono andate bene non stanno andando bene per la salernità ma io credo C'è ancora tempo Sì c'è tempo anzi ci deve essere il tempo perché noi dobbiamo salvarci assolutamente Diciamo che credo che il figlio diciamo la storia di questa di questa annata si può racchiudere nella partita di Terni nella partita di Crotone Questa squadra non è mai riuscita ad avere una continuità mentale da poter fare un filotto di partite che gli potesse fare acquisire anche una certa fiducia in se stessi perché io credo forse se non sono io bravo da questo punto di vista ma tanti addetti ai lavori ritengono questo un organico non inferiore a altre 8, 9, 10 squadre io credo che dopo il Cagliari e forse il Crotone anche se domenica abbiamo dimostrato di poter essere anche alla pari del Crotone torto il Cagliari che fa un campionato a 6 tutte le altre squadre non c'è qualcosa di importante che possa fare la differenza in maniera totale Io qui devo prendere le distanze nel senso ti passo le 9, 10 e sono anche d'accordo naturalmente a organico completo perché bisogna anche ricordare che la Serenitana è stata falcidiata da tanti Sì sì no infatti sicuramente però insomma penso al Cesena penso allo Spezia penso alla che voglio dire insomma le squadre anche Sì ma anche Cesena e Spezia stanno facendo comunque un campionato abbastanza io parlavo di quello non c'è poi dopo il Cagliari una squadra che sta ammazzando il campionato quello intendevo no ci sono organici superiori ai nostri ma anche Cesena ha spesso anche dei soldi per poterlo avere lo Spezia stesso no parlavo proprio di questo tu parli di infortuni arbitri che non ritengo in mala fede ma che abbiano fatto degli errori importanti però per me questi sono non dico tanto gli infortuni perché quello dato di fatto che poi ci ha falcidiato un reparto in maniera particolare perché la difesa è stata oggetta di infortuni a raffica per quanto riguarda gli arbitri può essere anche un alibi anche se ritengo che quando alla fine dice i favori e i sfavori si compensano diciamo non parlo di favore né di sfavori di errori ne hanno commessi forse di più rispetto a quello che realmente poi qualcosa ci hanno concesso e allora mettiamola così dato che ci sono ancora 15 partite se è così abbiamo un credito io mi auguro di farle a prescindere esattamente sono d'accordissimo con te però consentimi se tutto è così come stai da parte tua analizzando allora perché a gennaio si cambiano 10 giocatori e poi addirittura alla fine di gennaio si cambia la guida tecnica beh 10 giocatori insomma diciamo che siamo andati comunque a completare sicuramente come hai detto tu all'inizio un organico che andava completato però è anche vero che siamo andati a comunque a rinforzare un reparto dove continuavano ad esserci degli infortuni in difesa la guida tecnica è figlia anche dei risultati è normale ho fatto anche il calciatore che quando le cose non vanno bene quello che paga è il tecnico e quindi direi che ci sia stata anzi da parte della società ci sia stato pieno appoggio in torrente perché comunque fino a gennaio nonostante anche i risultati non eccellenti fino a gennaio d'accordissimo si è sempre cercato di potergli dare una mano però consentimi paradossalmente il paradosso dei paradossi è che personalmente questa è una mia opinione lo ho avuto modo di dirla poi puoi anche non condividerla paradossalmente tu società non Salvatore Vallone naturalmente tu società esoneri torrente dopo la sconfitta con il Como in modo tale che dai al nuovo allenatore la possibilità di avere il mercato famoso di riparazione a disposizione invece gli dai fiducia e un plauso a questo e poi che fai alla fine del mercato esoneri l'allenatore credo che lì non sia stato tanto il fatto della fine del mercato giustamente è successo probabilmente è stata anche la sconfitta della spezia la non reazione della squadra sembrava una squadra appiattita da un punto di vista anche mentale quindi probabilmente oltre al fatto della chiusura del calcio al mercato si è pensato proprio quello non aver visto un segnale importante per poter pensare di risalire la classifica io la penso in questa maniera qui più che altro ancora tante domande per Salvatore Avallone Dodger ci scrive per Avallone ma perché i calciatori non vanno ospiti nelle trasmissioni da cosa nasce la scelta del divieto è una questione che i calciatori si scocciano oppure la società che non vuole e se non vuole perché? beh questo è stato diciamo che anche negli anni passati da questo punto di vista non c'è mai stata una grossa foe ho fatto tuo ospite tante volte non ho mai visto neanche quando ero io dirigente della Sanitana probabilmente è un modo anche di non lo so forse non mettere i tifosi scusa i calciatori in condizioni di di parlare in maniera sempre tutto l'anno ci sono delle trasmissioni ci sono delle volte in cui le abbiamo date le trasmissioni non in maniera così però io non vedo anche in giro insomma per quanto riguarda quando vediamo le tv nazionali o anche quelle locali questa grossa affluenza da parte dei calciatori vedo magari più che altri dirigenti direttore sportivo il presidente vedo sempre raramente che venga portato un calciatore che ne so nelle trasmissioni tipo Domenica Sportiva o Sky faccio fatica insomma anche da quel punto di vista vedo sempre molto di più i dirigenti e non i calciatori io sono costretto in un certo senso a snaturare la scaletta però insomma sono talmente tante le domande questa è la testimonianza del fatto che la gente ha fame di sapere di conoscere Ivo ci scrive proprio in tempo reale sempre il nostro sito internet ti vuoi installare il no.it al link Zona Missa News per Avalone perché la società sarà un fuoco incrociato perché la società non abbassa i prezzi dei biglietti per riempire lo stadio perché non fa nulla per agevolare la provincia che per fare i biglietti deve venire a Salerno perché la società non pensa a costruire un settore giovanile adeguato perché non si fa una programmazione su giovani perché non si fanno allenamenti a porte aperte su questo lo sottoscrivo beh sul fatto dei biglietti credo insomma che anche rispetto a tante altre città noi non siamo oltre certi prezzi anche per quanto riguarda la campagna abbonamento all'inizio però credo Salvatore che in questo caso può darsi pure che da qui alla fine la società possa venire incontro anche però sempre nel rispetto di quelli che poi hanno fatto gli abbonamenti perché se no sembrerebbe che uno voglia magari togliere qualcosa agli abbonati che comunque hanno avuto fiducia all'inizio hanno pagato un certo prezzo e in questo momento magari abbassandoli si va anche a fare un torto agli stessi vediamo che comunque vediamo di riuscire magari a venire in conto tutte e due le cose e far sì parte il fatto che i tifosi asetana sono sempre comunque numerosi e questo è un dato di fatto insomma siamo comunque la terza o quarta piazza per il pubblico quindi da questo punto di vista il tifoso poi non si tira indietro a nessuna cosa però se questo può agevolarlo può darsi che anche la società da qui alla fine possa fare qualcosa io ti chiedo di fare da tramite anche sul discorso delle porte aperte credo che sia una partita persa però soprattutto per la provincia Salvatore perché la provincia è veramente un volano importante il fatto di venire a fare i biglietti a Sarenno credo che potrebbe essere un no ci sono stati in passato io soprattutto l'anno scorso quando sono stato a festeggiare con la squadra la promozione in parecchi hanno chiesto se si potevano aprire dei punti vendita anche lì in provincia credo che l'ho fatto presente anche molte volte all'amministrazione tramite la nostra Maria Vernieri che è quella che si interessa del settore biglietteria qualche cosa in più sia stato fatto credo che la provincia sia anche soprattutto la forza del tifo salvatano dobbiamo andare in pubblicità settore giovanile sicuramente siamo partiti da una situazione particolare perché partire da un fallimento non è facile però giusto si è aperto una scuola calcio dove mai nessuno ci aveva pensato ed è stato anche un bel successo noi abbiamo 150 ragazzi i giovani non è mai facile insomma sappiamo benissimo io ho fatto il calciatore soprattutto andare via da Salerno perché è sempre stato un dato di fatto questo non poter crescere nella propria città e dare appunto anche lusso alla propria città un periodo è stato anche fatto mi auguro insomma che la scuola calcio e con il fatto di mantenere la categoria si possa aprire anche a un settore giovanile più importante allora prima proprio di andare in pubblicità ci addentriamo al discorso Trapani perché la squadra domani si allenerà farà la rifinitura a Trapani abbiamo detto 21 convocati si rivedono Tuia e Rossi insomma reduci da rispettivi acciacchi mentre io ho detto però è una mia considerazione congettura Pollace e Trevisan a casa per scelta tecnica beh credo di sì perché sono tutti e due tutti e due si sono allenati Pollace forse è quello che è un po' più indietro perché comunque è ripreso dopo però tutte e due disponibili perché anche Pollace l'altra volta c'era c'era proprio per questo per addentrarci al capitolo Trapani nella seconda parte prima della pubblicità un'altra domanda Enzo Petaloso questo Petaloso è di dominio pubblico in questi giorni salve secondo voi voi come mai Trevisan è stato inserito nella lista over nonostante venga preso in scarsissima considerazione non si poteva lasciare un posto vacante in lista così da poter fronteggiare un'eventuale emergenza in altre parti io però prima che Vallone rispondo devo chiarire una cosa anche su una linea su una linea esatto devo chiarire una cosa il discorso sabato dovrebbe scendere quindi si dovrebbe aggregare al gruppo tra l'altro chiariamo una linea si aggrega al gruppo e dovesse come praticamente credo che ci siano solo problematiche burocratiche lo sto dicendo da due giorni è inutile guardare al mercato degli svincolati e io condivido in pieno questa cosa a marzo è sempre un punto interrogativo a marzo con 15 partite devi avere giocatore pronto uso hai un giocatore Nalini che sicuramente non è pronto uso però ce l'hai in casa metti dentro Nalini valuteremo le condizioni anche di Nalini perché comunque al di là del fatto che si sia curato dove si è curato a Bologna comunque ha portato avanti una preparazione fisica quindi può darsi anche chi arrivi qui non avendo più dolore al ginocchio e avendo anche una 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 buona una buona una buona preparazione può darsi che poi il giocatore in più potrebbe essere lo stesso queste sono tutte valutazioni che ha fatto la società in corso di tempo qualora poi diventa ufficiale anche la cessione di Gabbionetta invece su Trevisan la domanda che ti facevano come mai è stato inserito se viene preso in scarsa considerazione è scarsa considerazione comunque in questo momento c'è stata anche la buona prestazione di Bagadour di Emper Eur c'è Bernardini tu insomma adesso anche il reparto difensivo facciamo gli scongiuri finalmente c'è un po' di abbondanza quindi si fanno delle scelte tecniche ma non non credo che sia scarsa considerazione proprio delle scelte in base anche all'abbondanza che facendo gli scongiuri in questo momento abbiamo in difesa e io dico anche al rendimento andiamo in pubblicità subito dopo la seconda parte abbiamo preso un po' troppo tempo però insomma la presenza del team manager Salvatore Avalone Salernitano Doc Doc nei nostri studi naturalmente ha catturato la curiosità dei nostri telespettatori pubblicità per noi eccoci qua chiedevo in Fabregas in cabina di regia dato che ce l'avamo presi del tempo seconda parte di zona news più ristretta per la presenza del team manager della Salernitano Salvatore Avalone ancora domande per te Salvatore Rico buonasera a tutti in studio una domanda da Avalone non crede che si debba cercare di acquisire giocatori in forma fisica eccellente in salute per poter fare un buon campionato non ci saranno grandi squadre in Serie B ma certamente non avranno traffico nelle loro infermerie grazie io aggiungo alla domanda una considerazione proprio flash torna Menichini questo rapporto insomma poco idilliaco Fabiani-Medichini ristabilito per il bene comune beh penso che in questo momento l'obiettivo principale è la salvezza quindi credo che tutti quanti abbiamo una sola idea in testa e e quindi deve essere per forza così assolutamente invece la domanda che ti faceva Ricco da casa giocatori in forma fisica ma adesso beh adesso ma all'inizio insomma abbiamo avuto giocatori forse il solo massimo coda veniva da un periodo così di inattività però insomma adesso sta dimostrando tutto il suo valore anche se ma ha pagato forse caro la salernetana la scelta di affidarsi a gente con una carta di identità un po' più alta secondo te sarà un caso che questa salernetana cui Menichini bisogna io l'ho bastonato su alcune scelte da parte di Menichini e me ne assumo la responsabilità però devo anche riconoscere il fatto che sta dicendo da quando è tornato ho bisogno di gente in B serve gente fresca gente che corre e sta provando a mettere tutto il potenziale di giovani che si ritrova a disposizione ha pagato un po' questo anche la salernetana in B ma guarda io vedo anche ci sono delle squadre che si sono affidate a giovani e squadre che si sono affidate a meno giovani alla fine non è detto che poi il risultato debba essere che la squadra giovane corra più veloce di quella dei vecchi sì è normale c'è un discorso fisico però io voglio guardare la prestazione di Pestrini per esempio con Pescara ha dimostrato di essere comunque un giocatore che se poi corri in una certa maniera corri nel modo giusto se corri bene se corri bene cioè se la squadra si muove come si deve muovere nel collettivo si muove la squadra che sa con le cose che deve fare credo che anche il giocatore più vecchio possa correre benissimo la pare del cattivo Zanetti significa che prima non correva bene la serenetana allora no ti dico sempre che la serenetana ha avuto sempre delle partite dove non ha mai avuto continuità il Brescia di Torrente la partita con il Brescia 3 a 0 la squadra ha dimostrato anche in quella partita di essere e il Brescia veniva se mi dite adesso il Brescia di adesso sì ma quel Brescia lì veniva da 5-6 vittorie consecutive o comunque da 6-7 risultati utili consecutivi quindi comunque il Brescia era una squadra che si affidava dei giovani adesso magari i giovani stanno pagando quindi alla fine io sono del parere che se la squadra si muove in un certo modo e sa correre o che siano giovani o che siano meno giovani il risultato è sempre lo stesso e dopo domani il Menichini sembra intenzionato di affidarsi al 4-4-2 con l'unica alternativa ci auguriamo perché significa che l'infermeria è svuotata che Ceccarelli e Colombo sono abili e arruolabili oggi era altrettanto l'unica alternativa un gioco forza stracoscia al posto di Terracciano ieri Roberto Giancone dai nostri studi ha detto questo ping pong dei portieri a inizio stagione è costato caro alla Salernitana almeno 5-6 punti io non posso andare contro il mister Giancone quindi te l'ho detto apposta no credo che sicuramente all'inizio c'è stato insomma questa alternanza che probabilmente non ha fatto bene neanche a nessuno dei due finché poi non c'è stata la scelta definitiva di affidarsi in maniera totale a Terracciano e credo che comunque alla fine Piero sta dimostrando sta facendo un ottimo campionato però io ho molta fiducia non è perché lui lo sa benissimo Thomas non lo dico stasera io lo disse anche quando una partita che rientrava sa benissimo le parole che gli ho detto quindi non è perché sabato deve giocare per forza e lo sto facendo per piageria io credo che Thomas ha davanti a sé un buon futuro se saprà appunto prendere e fare tesoro anche degli errori che ha fatto quest'anno e sicuramente lo faranno crescere perché è un giocatore che sta nell'ambito nell'orbito della nazionale del 21 albanese e comunque un proprietario del cartellino della Lazio vuol dire che ha comunque delle qualità io credo che sicuramente questo gli faccia bene anche il fatto di poter stare dietro a un portiere come Pietro che ha un po' qualche anno in più di esperienza rispetto a lui e soprattutto lavorando con non dimentichiamo con Gigi Genovese che sicuramente ha fatto migliorare parecchi portieri che sono passati Salvatore a proposito di portieri perché nella rosa della Salernitana si è creato un po' questo equivoco e te lo subito ti bacchettano fra virgolette da casa per Avalone come è possibile che una società professionistica di serie B che da anni si vanta di avere un'organizzazione di serie A accadano eventi simili a quelli di Rosti giocatore da un mese e mezzo a Salerno senza essere tesserato cosa siamo diventati una palestra pomeridiana per gente che deve rimettersi in forma in vista dell'estate in tal caso attendo anche io l'orario per presentarmi domani al Volpe No il caso di Rosti diciamo che è nato da un discorso dove noi l'abbiamo preso svincolato il problema è che praticamente c'era un discorso dove questo ragazzo aveva già compiuto i suoi due trasferimenti sicuramente ci sarebbe stata lì ci sarebbe dovuto stare un po' più di attenzione da questo punto di vista è successo un po' quello che successe anche anni fa con centrocampista aiutami Remondini che praticamente poi andò a Genova dopo che aveva fatto due e non poteva giocare quindi capitano queste cose perché anche perché lui non è che giocasse sempre c'è stato questo doppio trasferimento senza giocare quindi probabilmente qualcosa è saltato è anche vero però che in tutte le squadre c'è un primo un secondo portiere e il terzo portiere subito quello della primavera poi ci dicono perché non mettiamo dentro il giocatore della primavera quindi secondo me Patella è un ottimo portiere quindi a proposito di questo sta dimostrando anche di essere bravo un grandissimo in bocca al lupo a Patella che andrà in faccina è un giocatore un investimento per il futuro però si dice che Minichini abbia chiesto un terzo portiere questo non lo so onestamente ancora Granato 87 poi ci concentriamo su Trapani anche se ne stiamo parlando quel casino di ritiro di Serino sempre per te con allenamenti a Salerno chi li ha decisi chi ha il compito di valutare le strutture in generale ricordo il ritiro estivo poi disdetto con Somma si può sapere grazie lì si voleva portare la squadra un po' fuori da iniziava il calciomercato c'erano degli arrivi c'era il derby c'era il derby con Lavellino pensavamo appunto che il campo di Serino fosse migliore di quello che poi realmente ci siamo accorti anche perché proprio in quei giorni venne giù due giorni prima un grosso acquazzone che lo rese molto morbido ma non dovrebbe essere prima visionato si si no ma noi l'avevamo visionato ed era in condizioni ottime c'è stato due o tre giorni prima un grosso acquazzone che l'ha reso soffice e quindi continuare a fare allenamento sempre su quel campo avrebbe significato un grosso dispendio dispendio fisico anche dal punto di vista di 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 appresentimento proprio delle gambe e quindi si è optato per andare a Baronissi a Volpe anche perché insomma 20-25 minuti col Pumma non mi sembra la fine del mondo l'importante è aver comunque tenuto la squadra fuori da un contesto di mercato dopo una pausa natalizia che comunque dieci giorni comunque si fanno sentire anche da un punto di vista alimentare quindi riportarli anche da questo punto di vista diciamo alimentare appunto a regime per la partita di Avellino dove la squadra ha dimostrato comunque ha fatto un'ottima partita pur perdendola ma ha fatto un'ottima partita io non so credo che non abbiamo più il tempo perché insomma ripeto è stata completamente snaturata la nostra scaletta si è stato già prontato il collegamento telefonico scusami il ritiro di somma siamo andati a vederlo non era non era all'altezza l'abbiamo cambiato quindi ce ne siamo accorti non è che siamo stati a dormire non pettinate le bambole ne venite i miei capelli perché non ce l'ho Fabrega se ci abbiamo no va bene allora fermiamoci qui perché insomma pochi ancora pochi minuti li voglio sfruttare con Salvatore Avalone per questa trasferta di Trapani Trapani che guardare la classifica è molto tranquillo la Salernitana manca al successo esterno da tanto troppo tempo ci sono le condizioni vista anche la Salernitana che ha giocato col Crotone per tentare sarebbe facile quello che ci siamo detti internos no a parte essendo di Salerno quindi comunque mi tocca il giro per Salerno quello che ci siamo detti tra tifosi parlo da tifosi in questo momento se scendesse la squadra di Crotone se scendesse la squadra di Pescara di Brescia a Trapani sicuramente renderemmo difficile la vita a Trapani stesso nonostante la vittoria che hanno fatto a Prudio quindi io credo che i ragazzi hanno le potenzialità per farlo debbono debbono averlo soprattutto nella testa perché è proprio in determinati momenti che sono venuti in meno loro devono soltanto capire che quello che ha fatto con Crotone col Pescara e con Brescia è nelle loro corde quindi possono mettere in difficoltà chiunque possono andare a vincere a Trapani benissimo se fanno la partita dal punto di vista agonistico dal punto di vista anche tecnico tattico come l'abbiamo fatto con Crotone col Pescara e con il Brescia se noi andiamo in campo con questa mentalità dal punto di vista della cattiveria credo che non potremo non uscirne con un risultato positivo certamente se andiamo come abbiamo fatto a Terni siamo punte a capo e saremo qui di nuovo a anzi forse a pensarla ancora in maniera più pessimista perché le partite poi cominciano ancora di più ad essere di meno Fabregas ti ha fatto vedere la classifica Salvatore da io non la guardo prima ancora mi permetto di dire da tifoso perché l'hai detto tu adesso prima ancora che da team manager da dirigente della Salernitana quanto è mortificante e quanto è importante il patrimonio B per Salerno mortificante lo è ci mancherebbe altro infatti non la guardo so di essere in una situazione però sei fiducioso io lo sono lo voglio essere lo sarò fino alla fine io non quanto alla salvezza secondo te ma io mi auguro che i punti che faremo noi bastino per salvarci adesso sarà a dire che ce ne vogliono 48 49 però siamo lì 48 50 credo che 48 50 50 sicuramente ti salvi 48 rischieresti anche di fare i play out però ripeto ma in questo momento i play out sarebbero già un traguardo io voglio salvarmi senza fare i play out io credo che questa squadra lo possa fare è un organico che può l'ha dimostrato anche domenica può avere la forza di tirarsi fuori nonostante adesso siamo a 3 o 4 punti da loro se noi già da domenica sabato entriamo con una certa voglia ci possiamo salvare anche senza passare i play out però bisogna dimostrarlo le chiacchiere stanno a zero giusto il 4-4-2 secondo te in questo momento come equilibrio il crudone è stato lo schema giusto io credo che ci sono le persone preposte appunto anche a leggere le squadre avversarie e a metterle in difficoltà se il 4-4-2 venisse confermato significa che è il modo giusto per poter affrontare il trapano e metterlo in difficoltà e uscirne con un risultato positivo e invece per quanto riguarda questa è una mia considerazione che ho avuto modo di scrivere di dire puoi anche non rispondere ma avete fatto una tirata di orecchia a Donnarumma se gioca di squadra guarda l'importante è che ci arriviamo ci siamo lì davanti è normale proprio perché c'è un patrimonio da preservare prima ancora delle gratificazioni personali io dico giochiamo di squadra sì credo che in settimana il mister con i suoi collaboratori abbiano parlato anche di questo in questo momento il personalismo serve a poco quindi bisogna capire che se c'è la possibilità di alzare la percentuale di non sbaglio davanti alla porta bisogna alzarla se se io l'80% di far gol trovo c'è in mezzo uno che ha 99,9 lo fa in questo momento serve a 99,9 se non al 100% perché in questo momento non possiamo purtroppo non possiamo permetterci di sbagliare nulla assolutamente Delfino Granata in conclusione Lottito aveva parlato di un milione di euro per il mercato di riparazione ma forse si riferiva al milione di euro in entrata perché tra il costo del cartellino di gabionette e qualche stipendio risparmiato tipo Sciaudone siamo vicinissimi alla cifra indicata dal patrono chiude provando a ironizzare qui non credo che ci sia una domanda è un'analisi Salvatore giusto dare Sciaudone e pensare quanto è strano il calcio è Sciaudone che va via ma Sciaudone Sciaudone è un giocatore che che non ha fatto bene a Salerno non ha fatto bene a Salerno ma a detta di tutti ma anche io l'ho visto giocare per me è un ottimo giocatore ma quanti giocatori sono passati da Salerno non solo da Salerno ma anche da altre squadre non hanno fatto bene e poi altro uno su tutti Giovanni Marchese terzino faccio sempre l'esempio di Giovanni perché poi ha fatto 10-12 anni di Serie A quando scendeva da Rechi gli tremavano le gambe non solo la faccia bianca tanto la faccio spaventare poi alla fine ci sono delle piazze dove alcuni giocatori riescono a trovare il meglio e alcuni giocatori non riescono a dare quello il meglio di se stessi e Sciaudone è un ottimo giocatore Sciaudone la contestazione civile della tifoseria quegli striscioni un atto d'amore come lo interpreti da Salernitano da tifoso e da team manager sicuramente la contestazione è abbastanza civile devo dire nonostante appunto la classifica come dicevi tu mortificante i tifosi si stanno dimostrando all'altezza contestando in una maniera giusta e cercando anche di sotto questa contestazione fare da sprono a cercare di dare qualche stimolo in più ai giocatori per poter salvaguardare questa cattoria io la vedo anche da questo punto di vista quindi non ne possiamo dire niente anche perché il tifoso si sta dimostrando sempre all'altezza di quello che è dimostrando dimostrandolo con le presenze dimostrandolo con l'incitamento sia in casa che fuori casa quindi non posso non posso fare non posso dire diversamente senti Fabregas che si sta lamentando mi ha martellato che vuoi Fabregas in zona Cesarini questo cambia qualcosa anche nella preparazione delle partite questa settimana particolare perché ci sarà subito dopo anche l'entella in casa nel turno infrasettimanale ma c'è a noi conta poco noi siamo nei punti quindi i ragazzi lo diciamo sul piano atletico sicuramente sarà un grosso dispendio di energie però il fatto che abbiamo recuperato parecchi giocatori c'è la possibilità anche di poterli alternare insomma quindi speriamo di poter recuperare ancora più presto schiavi adesso scendono lì vediamo come sta fisicamente quindi alla fine insomma avere una una rosa che possa affrontare da qui alla fine queste 15 finali e poterci portare a questa salvezza che tutti quanti noi auspichiamo allora in conclusione Salvatore Avalone promette che se torniamo con un risultato positivo da Trapani sarà di nuovo ospite qui in trasmissione tu lo sai che molte volte è sempre portato bene appunto quindi promessa al pubblico se dovesse essere così vengo tutte le settimane mi autoinvito gli dico alla società ti lascio perdere è una scelta mia personale grazie a Salvatore Avalone grazie alla Salvatore Avalone di averci dato a disposizione il suo team manager che anche Salvatore Avalone mi fa piacere rimarcarlo ma insomma non ha bisogno di presentazioni l'appuntamento con Zona Missa News si ritorna domani sera puntuale su TV Oggi Salerno per l'ultimo della settimana solito classico tradizionale ciao in collaborazione con vuoi rivedere questo programma? visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand e clicca su Grazie a tutti.